ciao ragazzi e bentornati sul canale di aero manager bene siamo qui oggi con la nostra ciao a tutti e come avete visto dal titolo questo video fa sempre parte della nostra rubrica domande risposte alla fisio ed eccola qui la nostra fisio in camice pronta a rispondere alle vostre domande che abbiamo ricevuto sul gruppo di facebook bene una delle domande o comunque una serie di domande che abbiamo ricevuto più frequentemente quella sull'anca e il piriforme quindi lascio la parola alla nostra esperta vai pure l'articolazione dell'anca è una delle articolazioni più mobili che abbiamo del nostro corpo dopo la spalla è formata dalla cavità acetabolare e dalla testa del femore che è ricoperta per i due terzi ha una grandissima mobilità ma la sua funzione è quella di sostegno di tutto il tronco del cingolo pelvico di arti superiori naturalmente del capo quindi un'articolazione complessa perché movimento e stabilità insieme sono due sono due cose estremamente diverse e lontane ma ed è per questo che l'articolazione quando inizia avere dei problemi inizia a essere anche dolorosa e una delle domande era sulla leggera displasia la displasia è proprio questo è una cosa che è una patologia che c'è dalla nascita è un non contenimento ok del bacino sulla testa quindi la testa è un po' meno appunto contenuta e c'è più instabilità e sono casi un po' particolari mi chiedevano dello stretching e qua ci colleghiamo un po' col piriforme i muscoli dell'anca sono molto potenti proprio per la loro funzione che è quella di contenere e sostenere più che di muovere e c'è il comparto anteriore formato dall'iliopsoas e dal retto del quadricipite che spesso si contrae l'abbiamo visto anche un precedente video in caso di iperlordosi all'interno e che fa parte però del comparto posteriore c'è questo famoso muscolo piriforme che se si contrattura o peggio diventa troppo ipertrofico per una serie di motivi vedi grande gluteo non non lavorato in modo corretto o comunque anche lì poco allungato può creare una sintomatologia simile alla all'ernia disco quindi un dolore a tutta la chiappa chiamiamola tutta la parte posteriore che poi scende anche a livello dei dei flessori del ginocchio ovvero i femorali quindi ricapitolando l'articolazione dell'anca complessa e molto mobile e va trattata bene nel senso che non va dimenticata noi quando facciamo se facciamo lo stretching pensiamo al ginocchio no pensiamo magari alla schiena se va bene un po alle spalle però l'allungamento dei flessori vedi l'opsoas importantissimo o l'allungamento dei glutei magari noi ragazze lo facciamo però di maschi che lo fanno non tanto anche lì in presenza di contratture come abbiamo visto in un altro video pallina da tennis e provare a sbloccare prima che un anche una rigidità del bacino stesso in antiversione retroversione comporti una postura scorretta della zona lombare e quindi un mal di schiena conseguente come trigger point del piriforme che era una delle domande anche qua è difficile proprio in mezzo al gluteo e alle volte si confonde con il dolore della sciatica quindi non è molto semplice proprio neanche per noi fisioterapisti differenziarlo un'altra domanda era se una persona con protesi all'anca può lavorare in quadrupedia sembra una domanda un po fuori dal tempo per noi perché pensiamo sempre alla protesi all'anca persone anziane mentre adesso con la chirurgia moderna a me capita sempre più spesso di vedere anche persone giovani perché è cambiata la chirurgia sono cambiati i tempi di recupero c'è una tecnica sempre migliore anche una serie di materiali migliori quindi non è una domanda così fuori dagli standard di noi giovani e si può assolutamente lavorare in quadrupedia non c'è nessun problema anzi chi ha la protesi all'anca può praticamente fare tutto al giorno d'oggi se naturalmente ha fatto un buon piano riabilitativo dopo l'intervento la cicatrice non crea problemi non ci sono limitazioni nel movimento ecco fantastico grazie ancora Alice è stata sempre molto esauriente e completa e soprattutto chiara grazie ancora e ci vediamo alla prossima ciao a tutti ciao grazie